Signori bentornati carissimi nel canale dello Zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Marvel Snap Oggi parleremo di Snap non giocato ma di Snap futuristico, di Snap del futuro Andremo a vedere le datamine che sono uscite, vi ricordo però sulle datamine Non è come quando faccio l'analisi delle carte da prendere che do il voto, che dico Perché quelle sono carte ufficiali, le datamine sono degli spoiler che potrebbero cambiare Potrebbero cambiare nel body, potrebbero cambiare in piccole cose Io però voglio fare una cosa, ci vuoi buonasera, voglio fare una cosa proprio così aggressivo Voglio spostare la mia faccia perché intanto le carte si vedono tutte di là Quindi facciamo questo piccolo passaggio tecnico, tecnico-tattico Let's go Il bello di registrare i video in live Eccoci, siamo pronti per il datamine così potete vedere bene la nuova carta Galacta, quindi sarà, non so, qua dice che è la figlia di Galactus Beh, d'altronde, chi è che non chiamerebbe la figlia così? Perché ho chiamato mio figlio Samuele quando potevo chiamarlo Potevo chiamarlo, vabbè in realtà è un maschio quindi non è che la potevo chiamare Stefania Ci siamo capiti 4-6 4-6 Ogni turno, questa è la carta del passio Innanzitutto partiamo dal discorso che questa signori sarà la carta del passio di dicembre Ogni turno la prima carta che giochi in un'altra location Quindi non nella location di Galacta Prende più 3 power Più 3 power è un buff importante Innanzitutto perché può scombare con delle carte Cioè, al di là dei punti flat, no? Dei punti tempo che questa carta può fare Quindi, fondamentalmente, se la giocate di turno 4 Avete due turni in cui sicuramente darà più 3 in più 3 Se giocate però le carte nell'erocation dove non c'è lei E quindi comunque va a giocare per 12 Quindi diciamo che di base è una 4-12 flat Ma in realtà, sapete benissimo Che questa carta la andremo a giocare magari con carte che scombano Quindi magari tirate una brood che prende più 3 Brood va a giocare per 15 E diventa una carta molto interessante Andiamo a giocare show Prende un ulteriore buff Possiamo giocare black panther di follow up E raddopperà il buff Insomma, quindi al di là dei punti flat Questa carta ovviamente può scombare con diverse carte del gioco Può scombare anche con un dead bull, carte così Non mi sorprenderei Non mi sorprenderei di vedere questa carta in diversi archetipi È la classica carta del pass che fanno sgrava Che vogliono che finisca dentro a tanti archetipi del gioco Ormai sappiamo un po' come la pensano E quindi in realtà non ci sorprende che la carta del pass sia così forte Anzi, molte persone saranno contente che la carta del pass sia così forte Visto che andiamo a spendere dei soldi E Galacta è assolutamente promossa Luna Snow Luna Snow Molto carina l'artwork 3 mana 5 body Ormai è diventato Cioè ormai le carte hanno dei body pazzeschi Il motivo per il quale ancora Cioè un Galactus Non potrà mai tornare a essere giocato con un body 6 Se le 3 mana C'hanno 5 di body Perché vuol dire che una 3 mana Già praticamente ha contestato Galactus Bella anche l'abilità Bravo, ci sono d'accordo Bella anche l'abilità Anche se forse è un po' troppo forte Forse è più 3 e tanto Magari un più 2 Forse è la più decente Non lo so Anche perché può essere anche rampata Se rampate con Psy Fate Psy O Queen to Galacta Fate 3 turni di Galacta È vero che dovete giocare carte Nelle location dove non c'è Galacta Però Mi sembra molto sgrava come abilità Andiamo a vedere Luna Snow Che fa per 3 di mana E 5 di body È una carta on reveal Aggiunge un ice cube To each side of this location Quindi Aggiunge un ice cube Che vabbè C'è da qualche parte Eccolo qua È una 1 mana 0 Quindi è una carta che viene distrutta da Killmonger All'inizio di ogni turno Prendi più 1 energy Then destroy this if your side is full No vabbè Quindi questa rampa per tutte Allora questa rampa per tutte e due Con la differenza che La potremmo giocare in un clog deck Perché se la giochiamo in un clog deck L'avversario non rampa Però è vero pure che per giocare in una carta In una location dove l'avversario è cloggato Già siamo in una fase avanzata della partita Quindi rampare poi non è che sia così Così fondamentale È una carta che comunque rampa Tutte e due 3 mana 5 body Body importante Se comunque abbiamo un mazzo Che può sfruttare anche il drop a 1 Magari Tipo non so Uno suorvo con Blue Marvel Beh sicuramente Sì Come dice Civo in chat Rampare è sicuramente forte Però Questa è uno dei pochi casi Dove rampare rampano entrambi Quindi sì Forse rampare più in là nella partita Potrebbe avere più senso Però Questa mi sembra una di quelle carte Che secondo me fin quando non viene Ufficializzata Non lo so Mi puzza Ha comunque un bel body Quindi C'è poco da dire È una carta che ci manda subito Al turno 5 Quindi volendo potrebbe anche essere Una carta da mazzo Galactus Perché no Potrebbe essere una carta da giocare in Galactus 3-5 belle stazie La carta sembra Questa sembra molto forte King Heddy King Heddy Io non ho capito una cosa Ma King Heddy Non doveva uscire Questa season Con il Deadpool Diner Con la roba lì Ah forse Per chi non lo prende nel diner Se lo ritrova il mese prossimo Non so Comunque King Heddy È una Uno mana Due body Activate Quindi è la terza carta Se non sbaglio No Forse ce ne sono di più Forse ce ne sono di più Di Activate attualmente Forse ce ne sono 4 Quindi forse è la quinta carta con Acti Se non sbaglio Nel gioco Pesca una carta dal tuo mazzo Che non è Che non ha cominciato la partita nel nostro mazzo Quindi significa che se giochiamo Thanos Ci può pescare una pietra Se giochiamo Arisham Ci può pescare una delle 15 carte generate casualmente E se giochiamo i mazzi con i martelli Che sta Mezzo con i martelli Sta ricevendo diversi supporti Tra cui anche Frigga Che molte persone Molti di voi Mi hanno chiesto se prendere oppure no Che secondo me Non è brutta come carta Ma in questo momento Non abbiamo risorse Quindi anche volendo Non la possiamo prendere King Heddy Potrebbe scombare Anche con i mazzi martelli Quindi è una carta che costa uno Lo attivi Peschi una carta dal mazzo Assolutamente Un ottimo troppo a uno King Heddy Assolutamente Diciamo che l'activate è una meccanica lenta Quindi se lo peschiamo di turno 5 Non riusciamo a sfruttarlo Però Comunque è una buona carta Penny Parker Un drop a 2 Un drop a 2 Questa è una season Tutti i ragazzi stanno Tutti i ragazzi sono delle donne 2 mana 3 di body Orrevial anche questo Cioè vedete quante carte orrevial ci stanno Perché le carte orrevial Sono tantissime nel gioco Quindi quando parliamo anche di gore Perché ancora non esce Sicuramente gore è una carta che andrà a fare tantissimo i punti La maggior parte delle carte del gioco Sono carte orrevial ragazzi Orrevial Aggiunge SP DR To your hand When this merge You get più energy next turn Aspetta Questa è una carta che ci crea Una di queste due carte Che roba sono Ah no si chiama proprio così Questo tizio È una 3-3 Orrevial merge with one of your cards here You can move that card next turn Ok È una 3-3 Che si merge con una carta Quindi la possiamo O scombare direttamente con Penny Parker Ehm E quindi prendere più uno next turn energy Questo significa che turno 2 giochi Penny Parker Turno 3 Giochi lui sopra di lei Che diventa una save body Diventa una save body Che ci rampa per il prossimo turno E che possiamo spostarlo E questa è una carta in 3 Questa è una carta Se ci pensate Un drop a 2 Fortissimo Perché comunque Cioè quello che genera nella vostra mano È tutta value Quindi non è che voi È vero che lo dovete pagare Però è vero pure Che Comunque una 3-3 Che si fa emergere Può Può scombare anche con carte interessanti Tipo Che quando vengono baffate Fanno qualcosa Poi in più Se lo fate su di lei Più uno energy next turn Direi che Questa è una carta promossa Questa è una carta Che potrebbe vedere il gioco In tanti mazzi Cioè non è che c'è Un utilizzo specifico Questa potrebbe vedere il gioco In tanti deck Doctor Doom 2099 Sono curiosi Bellissimo L'artorchio Doctor Doom 2099 Vediamo che cosa fa È una 4-2 Quindi mi aspetto Un'abilità molto forte Visto che Ha un body piccolino Per Rispetto Al costo in mana Soprattutto adesso Che le carte Appunto Ne stavamo parlando prima Hanno dei body Molto Più alti Del loro costo di mana After each turn Add a Doombot 2099 To a random location If you play Exactly one card Ah Hai capito Il Doombot 2099 Che è Una Immaginavo che fosse Una 2 Quindi se giocate Una carta Solo Questo spamma 2 Allora Il Doombot Credo che sia Una carta Ah Il Doombot C'ha un ongoing Fermi tutti Your other Doombots Va a dare Ogni Doombot Va a dare Più no power Agli altri Doombots C'è da capire C'è da capire C'è da capire Se il Ah però dice Doombots Quindi Anche i Doombot Di Doomb Pensano A meno che Aspetta Fermi tutti Forse ho capito Quindi tutti I Doombot Che va a creare Vanno a potenziare La giocata Di Doctor Doom Finale Quindi non si potenziano Tra di loro Perché loro sono Dei Doombot 2099 Invece Il loro ongoing Dice che potenziano I Doombots Che sono quelli Di Doctor Doom Più lo stesso Doctor Doom Quindi praticamente Voi magari Turno 4 Giocate questo tizio Ok Quanti Doombot Possiamo spammare After each turn Quindi uno Giochiamo lui di turno 4 E già Evoca un pezzo Quindi turno 4 Ne evoca uno Turno 5 Ne evoca un altro Turno 6 Ne evoca un altro Quindi ne evochiamo tre Quindi questi tizi Da tre Che fondamentalmente Questi tre tizi Da due Che sono otto punti Totali di Doom Se giochiamo sempre Una carta per turno Poi ci vanno a dare A loro volta Più uno Più uno Quindi ci vanno a dare Un più tre Più tre Questo ovviamente Se giochiamo in curva E se peschiamo Doctor Doom Quindi ci sono anche Tanti se Diciamo che come concept È fighissimo Questa forse è una carta Che Una delle carte Che mi piace di più Il concept è molto bello Però La realizzazione Del mazzo Poi immaginatevi Che entra in metà Una roba del genere Peraltro i pezzi da due Vengono Ecco il fatto che i pezzi da due Vengono spammati casualmente Non mi piace Perché se io a fine partita Devo tirare Doctor Doom Si presuppone Che Doctor Doom Mettendo tre Pezzi da cinque In tutte e tre Le location Abbia bisogno Di almeno uno slot Se questo tizio Mi inizia a evocare È vero che Giocando una sola carta Per turno È più difficile Chiudersi Però è vero pure Che se questo tizio Mi inizia a spammare Le carte tutte Nella stessa location Io mi ritrovo Una location chiusa Poi Doctor Doom Non riesce a fare I suoi punti Però il concept Di Doom 2099 Mi piace tantissimo Ecco Mi piacerebbero molto Di più carte così Che sinergizzano Tra di loro Come per costruirsi Un mazzo sopra Peraltro C'è anche delle varie Antrottissime La carta sicuramente Non è OP È più bella Che forte Però è la classica Carta che io Per esempio Se c'essi le risorse La prenderei Sicuramente Questa è una carta Che a me piacerebbe tantissimo Da buildare In un mazzo Bruce Banner Il grandissimo Bruce Banner Vediamo se si trasforma In Hulk In qualche modo Oppure no È un drop a due Con uno di body Che dice che When you end a turn Con Unspend energy 20 No vabbè ragazzi Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio forte Mi dissocio fortemente Da questa carta Ecco poi Io Queste sono le cose Che mi fanno incazzare Cioè Non puoi fare una carta Del genere No Non puoi fare una carta Del genere Che non solo Ti implica che Non devi spendere il male Che ti gira A me se si rigira A culo Sto coso Mi diventa Hulk Impazzisco 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 fortemente Ve lo dico Ve lo dico Questa è una di quelle carte Che mi farà impazzire Su Marvel Snap Già lo so Già lo so Quindi praticamente Ogni turno In cui Finite con il mana Non speso Avete un 25% Che questa carta E questo troppo a 2 Si trasformi in Hulk E quindi diventi una 12 Che poi Peraltro Se ci pensate Ci sono carte tipo Morbius Che giocano comunque Per 12 punti Che non si sa Per quale motivo ad oggi Non sono state nerfate Quindi Diciamo che Bruce Banner Andrebbe anche in linea Come power level A dei troppo a 2 Che ci sono Nel gioco Il problema è che È una carta che costa 2 Quindi c'è Tu la giochi comunque In un archetipo dove Non spendi il mana Quindi tipo Una è ghevo Una roba del genere I mazzi è ghevo Non lo so È una carta che io odio Già odio Così a pelle Ehm Eh sì Diciamo che Non la puoi attivare Di turno 2 Quindi magari Di turno 3 Eh Però c'è il 25% Quindi non è detto Che si gira C'è capito A me questa cosa Non piace Tu magari Mi puoi mettere Una Una metodologia Di attivazione Anche difficile Da Da attivare E magari La rewards Diventa grossa No Tu dici ok È tosto da attivare Però poi La rewards La tengo Questa invece Tu magari Stai lì E come ci fai A giocare intorno A sta carta Cioè tu non lo sai Né se si trasforma Né se lo fa Cioè E questa cosa è bruttissima Io spero che smettono Di fare queste carte Perché secondo me Nella loro testa Questa tipologia di carte Come Arish Non sono carte meme Ma non sono carte meme Perché l'RNG che hanno È troppo forte Buonasera Agos È assolutamente Troppo forte L'RNG che hanno Queste carte Quindi io Mi dissocio Da Bruce Banner Assolutamente Non solo Non lo prenderò Ma maledirò Tutte le persone Che me lo giocheranno Contro In particolar modo Quelle che me lo Rigireranno E vinceranno anche La partita Perché poi Un drop a 2 Che gioca per 12 Rocket Raccoon And Groot insieme Questa spero che sia Una carta OP Insieme Una coppia incredibile Rocket E Groot 3-3 Description You can move this once Puoi muovere questa carta Per una volta Dopo che il tuo avversario Ha giocato una carta qui Ruba un potere Da essa Quindi praticamente Voi mettete una 3-3 In una location E la potete anche spostare Una volta per partita Quindi potrebbe Tecnicamente potrebbe rubare Tutte le La forza Delle carte Di tutta la location Poi lo spostate E rinizia Da quell'altra location Ruba Ragazzi E' un più 2 Quindi è un engine Da un plus minus Di 2 Quindi significa Che toglie uno L'avversario Ma prende più uno lui Quindi E' forte Questa è forte Questa è una carta Che potrebbe scombare Con Jean Grey Sapete Jean Grey Scomba sicuro Lo lasciate lì Poi dopo lo spostate Fa cose Sicuramente Luke Cage Sta diventando Sempre più forte Nel meta Perché canterà Tutta questa meccanica Dei meno Dei meno uno Ehm Che dire Che dire Forte Questa è forte Questa carta Questa è forte Questa è forte Sicuramente è una carta Che se non l'ha giocata Di turno 3 C'ha una forza Se non l'ha giocata Di turno 3 E' molto meno forte Io però Voglio capire una cosa Voglio capire Mi sa che sono uscite Anche le carte Di gennaio Quindi possiamo andare A vedere anche Il link Delle carte Di gennaio Eccole qua Quindi andiamo A chiudere queste Carte di dicembre Non male La carta del passo Mi sembra Quella più forte Comunque Il che è buono Ehm Gennaio Vabbè Galacta La carta Iron Patriot La carta del Silver Pass Del season pass Victoria And Bullseye Moonstone E Ares No vabbè Ares Ares Non so che cosa fa Ma lo voglio già Andiamo a vedere Andiamo a vedere pure Le carte di gennaio Tanti leak oggi 2 mana 3 body Per Iron Patriot On Reveal Carta del season pass Add A random 4 5 Or 6 Cost card To your hand If you are winning Here After next turn Give it Meno 4 cost Hai capito Hai capito Iron Patriot Eh E questa è un'altra Carta che insomma Che fa dell'RNG Ehm Se stai vincendo qui After next turn Quindi tu praticamente Giochi in una location Dove giochi Che sai Già l'avversario Non c'ha niente Giochi Iron Patriot Lui crea Un drop a 4 5 6 Il prossimo turno Dopo giochi Nella location Di Iron Patriot Vai a vincere la location E ti si sconta di 4 La carta Quindi potresti avere Un drop a 4 Che costa 0 Un drop a 5 Che costa 1 Un drop a 6 Che costa 2 Questa carta Questa carta Secondo me Non è che ti piace Questa carta È rotta Quindi le prossime Due carte del season pass Sono una più rotta Dell'altra Questa mi sembra Di un Questa mi sembra Completamente broken È vero Che l'avversario potrebbe Contestare la location È vero pure Che voi la carta L'avete creata Cioè voi avete Una 2-3 Che vi genera Un drop in mano Ok che sia casuale Per fortuna Ma se riuscite A scontarlo di 4 Vi assicuro Che qualsiasi drop Esso sia La carta Sposterà tantissimo Quindi Mobius Mobius Caro Mobius Sempre più Come fai Non giocare Mobius In questo gioco Impossibile Comunque Carta rotta Quella del pass Victoria End Invece anche lei È una 2-3 Però non è una carta on reveal Ma è una carta ongoing Che dice che Le tue carte Create nella tua mano Hanno più 2 power Your cards Created in your hand Quindi non le carte Create in bordo O nel mazzo Le carte create in mano Prendono più 2 power Ed è E c'ha un going Quindi praticamente Quando voi giocate Una carta dalla mano Che è stata creata In mano Quindi per esempio Una sentinella Prende più 2 power Questa potenzialmente Può fare Tantissimi Tantissimi punti Per esempio Se voi fate Doctor Doom I Doom Bot Non vengono baffati Perché non sono stati Creati in mano Quindi Le sentinelle Le carte di agente Di Coulson Di agente 13 La stessa carta generata Dalla carta del pass Le carte Generate Dalla carta del pass Scorso Non mi ricordo mai Il nome Della tizia Questa è forte Questa è forte Però è specifica Per un mazzo Ci sta Ci sta Fare una carta forte Specifica per un mazzo Bullseye 4 romana 5 di body Activate Quindi un'altra carta Con Activate Discards All cards Tutte le carte Bella Zenith Eh Moon Girl Per esempio Bravo Zenith Tutte le carte Create da Moon Girl Con lei Prendono più Forza Bravo Zenith Che sta sul pezzo Activate Intanto io devo ammazzare Questa zanzana Vieni qua Diciamo violenza Sugli insetti Anche nei video YouTube Discards All cards Che costano Quindi discarta Tutte le carte Che costano Uno o meno From your hand Afflict That many different Enemy cards With men Of 2 power Allora Che cosa Caspia Significa Afflict That many different Enemy cards Cioè La stessa Lo stesso numero Che cosa intende Non è che si capisce molto Sembrerebbe che Tipo Se io scarto 3 carte Do meno 2 A 3 carte Penso di aver capito Però Non sono sicuro Che faccia questo Perché dice Afflict That many Different Enemy cards Sì Dovrebbe essere Questo Il significato Affliggi That many Significa Altrettanto Penso Che sia tradotto Così No In questa circostanza Altrettante Enemy cards Però non capisco Perché A different Nel senso Che è riferito Che non può essere Sulla stessa Ok Ho capito Different Quindi Altrettante Carte Però Però in maniera Differente Nel senso Che devono essere Se ho scartato 3 carte Devono essere 3 diverse Ok Allora è così Quindi scartiamo 3 carte A 3 carte Gli diamo Meno 2 Ok È attivabile Quindi diciamo Noi quando Fondamentalmente Questa carta Scomba con Quindi scomba Con i cosi Scomba con Swarm Scomba Con La tizia Che è uscita Il drop a 1 Che è uscito Sto mese Questa potrebbe essere Una carta Molto interessante Perché Attiva C'è La sua Diciamo Peculiarità Di scartare Che teoricamente Per un discard È già buono Come effetto Diventa Ancora più forte Perché acquisisce Value Scorn Esatto Bravo La tizia Abaffa anche Il demonio Quella di prima Sì Quindi Bullseye Super super Interessante Questa è una carta Molto interessante Per un mazzo Discard Però per un Discard Classico Moonstone Questa Jaja Nartor Che mi sembra Rotta Questa Le carte rotte Si vede dall'artor Che io non l'ho ancora letta Però tu vedi l'artor Questa qua è rottissima Sono sicuro Vediamo se mi sbaglio Quattro mana Cinque body Ongoing As the ongoing effects Of your One, two And three Cost cards here E vedi Si vede subito Quando una carta è rotta Quindi questa Che ne so La piazzate con Huntman La piazzate con carte Che si autobuffano Ci mettete anche The Punisher Questa prende L'ongoing Di tutte e tre E la sesta volta Che viene cambiato Io questo Lo ignorerei Ah tu dici la carta Viene cambiato Per la sesta volta Ok Ti riferisci a Bullseye Comunque Moonstone È una carta Da mazzo ongoing È una carta con ongoing Da mazzo ongoing Quindi è una carta Proprio da mazzo Con spectrum Ehm Anche Padreot Può riattivare Padreot È crossa Eh ma ragazzi Ma io ve l'ho detto Cioè si vede dall'artwork Cioè si vede dall'artwork La carta rotta Cioè la vedi Vedi l'artwork Dici questa è rotta Ehm così Moonstone rottissima E adesso andiamo a vedere la carta Tipo Ares No Cioè Ares io non so che cosa faccia Ma deve essere rotto per forza Per forza 4 mana 6 body On reveal Compare the power Of the top 3 cards Of both decks If your total is higher Più 6 power Ok Quindi questa è per un big deck Questa è per un big deck Anche con surfer Quindi fondamentalmente C'abbiamo un mazzo Big Andiamo a vedere le prime carte Del mazzo 412 Eh questa non ci dispiace Questa è una carta Che va a supportare D'altronde Si è incazzato come una faina Questa è una carta Che va a supportare Surfer Assolutamente Ehm Finiamo anche Questa è una carta di Arston Aveva molte carte Penso che riprendano Sono belle carte Sono belle carte Quelle del prossimo mese Quindi Dei prossimi due mesi Dobbiamo valutare bene Poi ovviamente Ovviamente ragazzi Andremo Ehm A valutare All'inizio di ogni season Andremo a valutare Quando le carte saranno ufficiali Perché come ha detto anche In chat Bullseye l'hanno cambiato Un sacco di volte Quindi potrebbe essere Che lo cambiano Però Questi sono degli Sprendeteli come spoiler Dei datamine Noi intanto li commentiamo Sono curioso di sapere Invece nei commenti Che cosa ne pensate voi Di queste carte Spero che il video vi sia piaciuto E vi interessino anche I contenuti di questo tipo Se così fosse Lasciate un like Un'iscrizione Una condivisione Attivate sempre la campanella Per rimanere aggiornati Con le news e le novità del canale E noi ci becchiamo Tutte le sere in live Non mancate E' bella